musica scusa guarda che giro guarda che giro guarda che giro giro dopo vabbè giro giro dopo eh beh mi manca uno sull'805 bene bella fede sei pronto? prontissimo non vedo l'ora entrato si luce verde luce verde significa che sei folle lo torino da via via l'altro muovo la marcia in avanti ok adesso andiamo a mettere un muoto vediamo vediamo ah spero ti piace no sicuramente però la mia è mi sento troppo chiuso ah provoca dopo possiamo mettere l'adesivo toscano bello questo qua è il laterale dai un 5 punti eh ok sono onorato sicurati quale onore abbiamo il boss a metterti le cinture Thomas come dici? abbiamo Adriano Monti a metterti le cinture infatti ti ho detto sono onorato sono onorato oggi prendetemi in giro io avrei paura se entrasse anche Adriano che vi fa un culo così a tutti mi sa è vero è vero è vero Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti